Assessori in provincia di Trapani, quattro centri vanno al voto, quelli più popolosi, Mazzara, Castelvetrano e poi Salemi, Salaparuto. Cosa cambia? Noi già abbiamo deciso tutti i candidati a sostenere in ogni singola piazza e siamo pronti a fare la campagna elettorale con tutti gli amici che seguono la linea politica. Ma non sono solo quattro centri che vanno al voto, abbiamo le elezioni europee che sono una grande scommessa, perché un'Europa che è più vicina e più attenta ai bisogni dei cittadini serve, serve per davvero. Io sono un europeista, uno che crede in questo ente, però si crede pure che vada modificato, cambiato per dare risposte alle persone. L'intervista politica fatta al video Sicilia, un'intervista che pisa, si candida all'Europa? Certo che sono candidato, lo dico da parecchio tempo e lo dico sapendo di correre un grande rischio. Una persona come me che ha centrato tante volte le elezioni e fa l'assessore regionale dovrebbe pensare a fare quello che sta facendo. Sono molto contento della mia azione amministrativa e ringrazio per questo il mio partito e il presidente Schifani. Però o noi capiamo l'importanza e la valenza delle elezioni europee, oppure non abbiamo capito il ruolo che l'Europa sta giocando in uno scacchiere mondiale d'euro mediterraneo e soprattutto non abbiamo capito che cosa sarà in tutto questo la provincia di Trapani. Finora la provincia di Trapani è stata assente dal Parlamento nazionale perché nonostante ci spettava hanno calato e imposto dall'alto soggetti che non hanno nulla a che vedere con la provincia di Trapani. Io sono di centrodestra e non ho mai sentito parlare tale fascina che dovrebbe rappresentare il mio territorio e di questa cosa mi vergogno nonostante la fascina sia di centrodestra. E lo stesso vale per la sinistra, il PD ha candidato la Furlan o per il terzo polo che ha candidato Carlo Calenda. Noi dobbiamo decidere se questa provincia di Trapani è periferia o se invece è protagonista di alcune scelte. In Europa si giocano due partite, o può essere un cimitero per elefanti dove uno va lì e ogni tanto dice una parola e non se lo ricorda nessuno, oppure uno va lì e capisce dieci anni prima quello che succede nei singoli stati. Mi candido in Europa per vincere questa partita e per andare a governare un percorso molto complicato e difficile, molto lontano da casa e questa cosa mi pesa tanto, rappresentare la provincia di Trapani in un posto dove mai nessuno l'ha rappresentato in maniera qualificata. Forse abbiamo pagato lo scotto, chi ci ha rappresentato fino ad ora ha fatto il turista della politica a Strasburgo e a Bruxelles. Io non giudico quello che fanno gli altri, mi impegno con le persone a fare il massimo di quello che si può fare per garantire questo territorio. Mi interessa parlare con le persone e dire quello che ho fatto e quello che vorrei fare. Molti mi dicono, ma perché, ma dove sei, ma con quale partito, ma a cosa serve? Facciamo rispettare la provincia di Trapani. Forse qualcuno può dire che al Parlamento nazionale i trapanesi come territorio di area vasta sono rappresentati, forse qualcuno può dire che alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica dove si decidono le cose, le nostre emergenze arrivano, forse qualcuno può dire che per l'emergenza agricoltura o per le alluvioni qualcuno si è speso per risolvere il problema. Nella provincia di Trapani nessuno lo ha fatto perché quando non c'è un radicamento sul territorio nessuno fa niente. Io mi candido sapendo che il territorio per me rappresenta la vita della mia azione politica e lo voglio fare per difendere questo territorio. Dica due punti a curriculum con i quali si presenterà l'elettorato. Due punti non li posso dire, lei mi provoca. Un candidato all'elezione europea si presenta con una visione strategica della Sicilia e della Sardegna. La Sicilia la conosco molto, molto bene e penso che la Sicilia in questo scacchiere euro-mediterraneo è per ora vitale. Se il Mediterraneo è importante nello scacchiere mondiale perché la Sicilia è l'ombelico del mondo, è il posto più importante da dove passano tutte le strategie politiche. Se in Europa non facciamo valere il nostro territorio e il nostro territorio della provincia di Trapani non saremo nessuno per poterci lamentare. Dica una cosa e chiudiamo. Perché io allora dovrei uscire da casa l'8 e 9 giugno e votare Mimmo Torano al Parlamento europeo? No, no, lei deve uscire da casa e fare il suo dovere e andare a votare perché molte persone non vanno a votare. Io le chiedo soltanto di andare a votare, poi voti liberamente, poi se trova qualche altro della provincia di Trapani che le dà più fiducia di me deve votare quella persona. Ma io scommetto che non ci sarà quasi nessuno o che nessuno avrà le idee chiare su come fare crescere questo territorio.